Musica Benvenuti a questo nuovo video Io sono Favij Oggi ragazzi siamo in un video un po' speciale Ho ricevuto questa lettera incredibile Da Mattel Ciao Favij Le lunghe desideranti partite ad uno si avvicinano Abbiamo deciso di donarti una piccola carta Da giocare per distrarre i tuoi avversari Buona fortuna Il team di Uno Italia Abbiamo uno Che è il gioco base Vabbè quello che conosciamo tutto Dopo uno ovviamente abbiamo DOS Perché giustamente c'è anche DOS Uno H2O to go H2O to go sarebbe uno idro repellente Cioè ci puoi giocare in piscina Ci puoi giocare in bagno nella vasca Bagno sotto a dolce E abbiamo la chicca della giornata ragazzi Uno flip E' una versione di uno un po' particolare Che adesso vi vado a spiegare Ma la giochiamo con degli amici Non potevo avere amici normali No però vabbè Stiamo solo in tre E non ne manca un quarto Ma perché manca il quarto? Quarto Ciao Perché ridi? E anche lui non ha dire Ma perché ridi? Perché era tutta verde E era tutta verde Anche te adesso c'è la tutta verde Ma sei bellissimo Guarda là Non vedi che c'è un tv lì? Ti si vede che non ti si vede Facciamo i seri Per una volta facciamo i seri Giochiamo Ragazzi guardate dove vi ho portato oggi Se siete pronti per fare questo incredibile gioco Perché non è come uno normale Questo è un numero un po' strano Non è uno ma è uno flip Ok? Bisogna flippare le carte La carta flip che ti gira completamente il mazzo La d'altra parte Vedi che c'è il mazzo nero E c'è il mazzo Bianco Ok Il solito E guarda che Jacopo è un campione di uno Ma io infatti sto spiegando per Pietro Cioè Una cosa raga Giochiamo con le regole di uno L'unica regola che non terrei è Che chi vince Vince Cioè quando hai fatto una E non teniamo Il contro Ok Adesso do le carte Facciamo che le do In senso orario Posso togliere la giacca? Fa caldo Perché hai ragione Io tiro sulla manica Un po' di crema protettiva? No No Grazie 2 4 Ti scuatti poi la mamma mi sgrida 7 9 10 7 11 4 Me la metti un po' a me Sì certo Ma che in faccia? No in faccia non la vuoi No 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 Andami qua Andami qua Non torni No 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 Andami qua Andami qua Andami qua Andami qua Andami qua La prima carta Oh Un bel sette Si parte Guarda Io ho già messo giù Il 9 Vai Voilà Tocca a me Si Valore Giallo Giallo Cioè è incredibile Ma sapete una cosa? Vai Tipo Un cambietto Così Lo facciamo questo cambio Grazie Lo facciamo questo cambio Bravo 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 Ma com'è oh? Arriva il temporale No Verrà a piovere Eh vabbè ragazzi Fulmini Anccioponcio 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 Piove Piove Aspetti qua Che sta pioggia? Mica abbiamo le carte H2 Oh oh Ti tocca Ti tocca Io ho fatto il cambio No io ho fatto la flip No io ho fatto la flip Tu hai fatto la flip Ho fatto la flip io Bella zio Neanche quello Eeeh Almeno i colori Non le tabelline Colore Colore Viola Ragazzi Guarda qua Ho sentito un cinque volare Dai no Cinque carte no no Eh Cinque carte è una hit Ho la collezione in mano Sapete che c'è A me il mare mi piace proprio tanto A me mi soprattutto Se andiamo al mare Vediamo che toglie il sereno Oh Oh Si cambia Mamma mia che caldo Ah Oh mamma mia Ecciva Colpisci mi estate Colpisci anche me Ecco Vedi te prendi una parola Così tanto Te la buco vuoi parlare io Ho preso me il piede Vai Ti mandali indietro Bravissimo Ti tocca però in tutto questo Jacopo Io direi blu Lo contesti? Si La coscienza che mi parla Si Oh no Oh A lui devi fare vederlo da noi O un più uno o un rotto Anche l'altra carta in mano Guarda che hai carta in mano Ah no Mi bastano con le due Pesca due carte Va Perchè? Ma stavi bleffando Stavi bleffando tantissimo Che colore bro Devi scegliere? Io dire blu Ragazzi Freddo Guarda come mi riordino i capelli in una botta sola Sai benissimo così Hai visto? Non sapevo Grasso di fuoco ne abbiamo? Grasso di fuoco Vai Vai Guarda le carte Vai It's a money 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 C'è ragione però C'ha effettivamente ragione Eh ragazzi Sta poco Uno Che uno? Sempre per vedere Sono 85 Sono 85 Tocca l'uomo Tocca l'uomo Tocca l'uomo Tocca l'uomo Arancione Eh Ma tu ne... Ma voi mi volete prendere in giro? Eh non anche secondo me perchè mi sto prescando niente di brutto Mi hai dato due cose in una frase sola Se cambiassimo ancora un po' Basta ti prego basta Ma dove ci porti ora? Sulla luna che ne so Addirittura? No raga Ragazzi Wow Guarda se guardi d'alto vedi i miei iscritti Let's go Tocca a me Una Una dalla luna Giupetta Non puoi cos'è sta roba? Non puoi ma direvi subito No No con l'uno si poteva attaccare Con l'uno si poteva attaccare Con l'uno si poteva attaccare Sai a chi lo chiediamo? Alla regia Regia? Più uno può controbattere più uno Tu salti il turno Grazie regia Prego E lo farò subito sai Così fai due carte Perfetto Proprio eh Come si suol dire Volevi vincere? Hai un po' di carte l'ore Ma sai che si gioca Devi buttare giù le carte Uno Caro mio Sento odore di vittoria Sento odore di continui più No dai Sento odore di vittoria Posso chiedere? Mi porti in un posto nuovo Per la vittoria Mi dico Jacopo Non ti muove il palazzo Mi dico Guardi Guarda di qua Non guardare giù Non guardare giù Non rischiamo No guardate giù ragazzi Tocca a me Chi tocca Non mi ricordo più Scusami Scusami Ti accuso Io lo tenterei Ah ok Io te lo contesto Non vale Gliel'ha detto Gliel'ha detto Non vale Non vale Non vale Aspetta Hai carte rossi Si ce l'ho C'è qua bella davanti Ce la devi guarda Mamma mia ragazzi Bravo Le hai prese quattro? Quattro carte Oh un piccione Tanto guarda Tanto va bene Quattro carte Ma guarda che dicono Che porta fortuna Che porta fortuna Guarda che bella fortuna Guarda che bella fortuna Uno Non so che fare ragazzi Secondo me Non buttarti giù dal grattacielo Perché ti vogliamo troppo bene Lorenzo Guarda quante carte Ti vogliamo troppo bene Volerei se faccio così volo Che schifo Questi piccioni Ma scusami Ma scusami No Dai lo usiamo come gel Vai 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 Prestino E via Mamma non guardare E' venuto benissimo tra l'altro Ma che cosa? Vai rimani così che sei un punk Ti andiamo stanno pescando No no vabbè Continuiamo col verde Flip, 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 Flip Flippato! 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 A chi tocca? A me tocca! Flipp! NOOOOOO! Non ha mai fatto il tempo a piovere! Bravo! Ma basta! Si ricambia! Fai un invertigino, per favore! Amico mio? Eh bro, fai quello che devi! Fallo! 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 Guarda che sei tu! Rimane solo stato! E dico anche uno, sai? Pesca mille carte! Pesca le carte! Piove! Piove? Ah ok, non ho capito! Che strano! Ah ma avevi un più 5! Tocca a me? Si, tocca a te! OOOOOO! Uno! Uno, uno! Carotta! Tieni te le do io! Te le do io! Perfetto! Vai Jacopo! Un secondo fa ero uno! Vai Jacopo vai! Uno! Ricordati che lui non ha il verde! Quindi si cambia! Flippa! Ragazzi! Si flippa di nuovo! Girate tutto! Mare! Mare! Palle! Eccola! Più forte su Pietro! Grazie! Più forte su Pietro! Ma sapete una cosa? Passa a me! Passa a me! Possiamo anche andare a giocare a pallavolo se vuoi! Tanto io mai ho vinto! Siccome ha vinto Pietro ha vinto Pietro bisogna che Pietro scelga la a chi far fare la penitenza che hanno scelto i ragazzi perché abbiamo fatto una storia dove abbiamo detto ragazzi che penitenza volete per il finale e abbiamo scelto tra ceretta e frullato voi avete scelto ceretta purtroppo ovviamente quindi Pietro chi deve fare la ceretta che ha meno peli sulle braccia? Chi la deve fare quando ne hai tanti la ceretta sulla barba? Ma ne ha tanti sulle gambe! Ne ha tanti! Bravo Ale! Io già non ho la barba almeno mi vuoi lasciare quelli sulle braccia? Ah ci sono anche le cerette magiche che si tirano da sole! Allora sulle maniche! Forza con sta roba! Non voglio non voglio sentire! Perché li ha tirate su tutti e due e se glielo devo fare solo su uno? Facciamo in fretta facciamo in fretta di questa ceretta in fretta! Non calma perché lui si sta... Vai 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 vai! Tutte e due le braccia sul tavolo che almeno sta meglio tutte e due le braccia sul tavolo Ma in mezzo devi fare in mezzo Ma non di qua! Ma non di qua pazzi! Ma come entrambe le mani? Ma no una sola! Fregato! Dai Lore! No ragazzi una sola! Si vede dalla faccia che hai voglia! Ok? Aspetta! 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 2! 1! Che male! Tira! 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 Fa malissimo! Fa male! Fa male! Fa male! Fa male! Voglio andare a casa! Ragazzi avete bisogno di una ceretta di un fattore estetico? Eccomi! Jacopo che fa... Va bene! Va bene! Adesso mi dovete fare tutto il braccio però! E se no va schifo! Si vabbè! Ragazzi vi ringrazio per aver partecipato al video! Un piacere! Le regalo! Queste sono tue! Volevo dirvi che quest'anno al Milan Games Week 2019 si terrà la prima Uno National Cup! Siccome io sono bravo a Uno sfiderò il campione nella Uno National Cup! Vi farò sapere... Cosa campioni? In anticipo? Vai che lo batterei subito! Mi farò sapere le info sul mio Instagram! Vi mando un bacio! E grazie per i regali! E grazie niente per i regali! Dammeli! Dammeli che sono i miei temi! Ti regalo questo! Alla prossima! Grazie! Ciao! Ciao!